mercoledì 29 giugno ben trovati cari amiche amici bianconeri qui sul mio canale titolo del video di quest'oggi tesoretto su cambiaso e precisazioni su angel di maria da sviluppare insieme non prima però di avervi ringraziato per il seguito che continuate a dare al canale per la continua partecipazione con attiva con i vostri messaggi vi invito anche a continuare ad iscrivervi qualora non lo foste a tenere azionata la campanella delle notifiche e a mettere like al video in fondo alla puntata se questa sarà stata di vostro gradimento vi segnalo anche che questa sera ore 21.45 sempre qui sul mio canale in attesa di alcune conferme live con ospiti davvero top da non perdere parleremo ovviamente di mercato della nostra juventus di tutto quello che ruota intorno al mondo bianconero dando spazio chiaramente ai vostri messaggi ma veniamo al video di oggi perché molto spesso parliamo delle trattative in corso di quelle indirittura d'arrivo degli interessi che la dirigenza bianconera sviluppa sugli obiettivi da portare in maglia bianconera dimenticandoci che c'è un lavoro interessante importante e imprescindibile da sviluppare anche sul lato cessioni e allora questo tesoretto che va ad aggiungersi chiaramente a quello che è già stato predisposto per il mercato in entrata che la juventus andrà a realizzare a partire dal primo luglio 2022 dobbiamo sicuramente ricordare che israel manca ancora qualcosa per definire l'accordo definitivo con lo sporting ma è prossimo a vestire la maglia dello sporting di lisbona sulle casse nelle casse bianconere dovrebbe arrivare circa un milione poi abbiamo brunori altro giocatore che ha fatto molto bene nella passata stagione in quella appena conclusa in lega pro con il palermo ne ho promosso in serie b che dovrebbe rimanere al palermo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro a cui vanno ad aggiungersi anche quelli di zanimacchia che ha ben figurato con la maglia della cremonese giocatore che se lo contendono cremonese e parma sembrava destinato al parma nuovo sorpasso cremonese anche lì siamo intorno ai 3 milioni di euro che la juventus dovrebbe incassare per l'accessione alla cremonese di zanimacchia senza dimenticare l'introito importante che dovrebbe arrivare dalla figura di rolando mandragora che non rientra nei piani della formazione di massimiliano allegri giocatore per il quale si stanno diciamo contendendo le prestazioni sportive il torino che vorrebbe confermarlo ottenendo uno sconto dalla juventus mandragora che ha fatto bene nell'ultima stagione agli ordini di juric e fiorentina che avrebbe già un accordo con la juventus per una cifra intorno ai 10 milioni di euro il giocatore prediligerebbe andare al torino rimanere in maglia granata ma in questo momento la fiorentina è un passo avanti la juventus è in attesa del rilancio del torino il giocatore prende tempo perché a parità d'offerta così è in questo momento l'offerta di contratto proposta gli dalla fiorentina è pari a quella del torino gradirebbe rimanere in maglia granata la juventus aspetta le mosse della dei granata e proprio perché da ieri sera sono rimbalzate le voci quelle che peraltro io vi avevo già anticipato in passato non il solo ovviamente ma sicuramente tra quelli che ve lo avevano anticipato e ieri guarda caso vi avevo detto la juventus mi aspetto stia lavorando sotto traccia anche su bremer di cui alcuni dicono no la juve non è interessata non se ne parla io invece sono convinto che la juventus stia facendo un pensierino anche a glaison bremer mandragora potrebbe essere la chiave per intavolare una trattativa proprio con i granata che sanno che dovranno liberare il giocatore che altrimenti lo vedrebbero partire dalla sessione di mercato invernale quella dizionale 2023 per una cifra intorno ai 15 milioni di euro e poi non dimentichiamoci che nel tesoretto già diciamo in possesso dei bianconeri ci sono quei 20 milioni più bonus che sono determinati dal riscatto della dea per il cartellino di meridemiral quindi una juventus che ancora sul mercato non ha speso perché tralasciando quelli che sono gli investimenti fatti nella sessione invernale che sono semplicemente l'anticipo di quella che dovrebbe essere la sessione estiva che partirà ora al primo di luglio la juve si è intanto accapparata alle prestazioni sportive di paul pogba e di angel di maria pagandone soltanto gli ingaggi e non i cartellini ma veniamo al proseguo del video ovvero su cambiaso perché cambiaso è il prossimo giocatore che vestirà il bianconero è in praticamente in dirittura d'arrivo la trattativa tra la juventus e il genoa anzi l'accordo tra juventus e genoa appara essere totale al genoa andranno circa 5 milioni di euro oppure il cartellino di radu dragosin cambiaso che è già sostanzialmente d'accordo per un quadriennale da un milione di euro a stagione con la juventus e quindi contratto per lui fino al 2026 da limare alcune situazioni in merito a quello che è l'accordo invece tra dragosin e il genoa ma non dovrebbero esserci problemi e quindi cambiaso dovrebbe essere il primo colpo ufficiale post pogba e di maria e vi confermo che qualora così fosse per quanto riguarda il gioco a cui vi avevo invitato a partecipare relativo ai gadget che ovviamente saranno rimandati per un altro gioco che proporò qui alla community non se li sarebbero giudicati nessuno perché cambiaso è un nome che nessuno ha fatto come primo colpo ufficiale dopo eccezione fatta gatti di maria e pogba ma vediamo attendiamo di capirne l'ufficialità vediamo invece al discorso di hangel di maria perché negli scorsi giorni se ne sono dette di tutti i colori da chi è entusiasta a prescindere del colpo di maria da chi è entusiasta per il giocatore ma che vede una juve ha visto una juve diciamo prona nei confronti del giocatore accettando qualsivoglia richiesta dell'entourage a chi invece ritiene il colpo di maria semplicemente un flop perché è un giocatore che sfrutterebbe la juventus per prepararsi al mondiale giocando in ciabate la prossima serie a e quindi operazione assolutamente da non condividere al di là di quelle che sono le considerazioni di ognuno di voi c'è un dato che va precisato perché per chi sostiene che la juventus si sia prostrata a tutte le richieste di angeli maria vanno fatte alcune precisazioni perché stanno emergendo i dettagli del contratto e sembrerebbe il condizionale è sempre sempre d'obbligo attendiamo sempre l'ufficialità ma sembrerebbe che contrariamente a quanto era stato riportato ovvero 7,5 milioni di euro netti a stagione per un solo anno più eventualmente opzione per il secondo in maniera unilaterale quindi con decisione da prendere semplicemente dal giocatore la juventus invece abbia ottenuto una situazione contrattuale differente si parla sempre di un anno di contratto da capire se ci sarà eventualmente quell'opzione per il secondo qualora il giocatore si fosse trovato bene e volesse disputare una seconda stagione in maglia bianconera decisione comunque sempre unilaterale perché questo è il volere del giocatore cioè un anno di contratto e poi tornare in argentina al rosario central per chiudere la propria carriera ma le condizioni economiche del contratto sembrerebbero essere completamente diverse ovvero si parla di 5,5 milioni di euro a stagione più bonus più ulteriori bonus piccoli per arrivare ad una cifra intorno a quei 7 ma determinati da presenze e da dal conseguimento di obiettivi personali e di squadra questo significa che il giocatore mette un po' anche nelle condizioni la situazione che lui stesso andrà a sviluppare per determinare il suo stipendio nel senso che lui stesso avrà l'interesse a disputare quante più partite possibili ad ottenere quali migliori risultati possibili personali e di squadra per il conseguimento del più alto stipendio diciamo stipulato appunto nel contratto con la juventus che è previsto da una base fissa si parla di 5,5 milioni di euro netti più bonus per arrivare a quei 7,7 e mezzo di cui si è parlato che però sono vincolati appunto a questa situazione di conseguenza molto spesso siamo portati a giudicare l'operato di una dirigenza senza conoscere bene i dettami semplicemente basandoci su quelle che sono le informazioni che vengono dette che non sono ancora certificate e verificate quindi è sempre bene attendere perché qualora così fosse evidentemente la juventus avrà fatto il suo avrà lavorato come meglio ha ritenuto e credo che tutto sommato avvalendosi di un giocatore ancora assolutamente in grande condizione fisica che possa portare qualità personalità e anche capacità di sempre vincere avrà lavorato io credo come meglio non poteva ditemi la vostra lasciate i vostri commenti iscrivetevi al canale youtube ci sentiamo presto fino alla fine forza juve ciao